Ha vinto la bellezza di 350.000 euro scommettendo sulla vittoria di Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Questa persona, che si chiama Vincent Changwis, di 60 anni d'età, è stato che ha affidato a diversi brokers ben 350.000 sterline, corrispondenti alla bellezza di 350.000 euro. Sulla vittoria del candidato alla Casa Bianca, che vi ricordo ha due lato contro Hillary Clinton. La vittoria è arrivata, infatti come sapete bene, oramai il nuovo presidente degli Stati Uniti è Donald Trump e questo uomo, così fortunato, Vincent, si è portato a casa, si porta a casa direttamente 350.000 euro. Complimenti dunque a lui, a Vincent Changwis, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, a volte la fortuna è cerca, ma in questo caso sembra aver visto bene e aver voluto premiare questo uomo così semplice.